ciao buona giornata alla mattina c'è qualcuno che guarda i video allora brindisi mi scrivono mi scrivi qua molti mi scrivono io la mattina mi sveglio e guardo i video grazie buon risveglio ma se invece accendi la radio a televisione che notizie danno quali sono le buone notizie io non ho la televisione c'ho il computer guardo internet ogni tanto a casa di qualche amico guardato qualche telegiornale è costruito così il telegiornale notizie solo da alcune parti del mondo dove hanno il corrispondente il resto del mondo non esiste un miliardo e 400 milioni di indiani non esiste l'africa esiste solo se c'è confusione sud america solo se scoppia qualcosa quindi il mondo viene limitato europa america e basta europa fino alla mosca arriva poi quali sono le buone notizie lo sport ma che è una buona notizia che un calciatore guadagna milioni una buona notizia che una scuola di calcio finanziata da uno ricco una buona notizia poi un po di spettacolo un film una cantante poco tempo fa siamo nel 2023 un telegiornale quella canta non sto anche a fare no ha messo una sua foto nuda in copertina per richiamare il richiamo a cosa richiamo a compratemi quindi c'è il calcio che è un'industria il cinema un'industria il campo discografico è un'industria e che cosa pensate che perché il programma dove la rai guadagna più soldi è il festival di sanremo ma perché perché lì le buone notizie sono un inganno il festival di sanremo è un inganno perché ci sono dei professionisti che arrivano lì alla salute non bevono acqua whisky champagne vini pregiati poi vanno sul palco e si mettono accanto a cantare canzoni d'amore canzoni d'amore affetto emozioni alle persone poi ti fanno sentire le canzoni d'amore di una volta ma chi sono quelli che cantano maestri dell'amore non sono maestri dell'amore sono professionisti che giocano con le emozioni e quindi giocando con le emozioni prendono quindi quel festival chiamato festival della canzone è la canzone è un prodotto commerciale io ho conosciuto dei parolieri qualcuno veniva anche a scuola con me qualcuno è anche morto qualcuno ancora vivo ecco cosa dico sono i poeti moderni mettono insieme delle parole orecchiabili con la musica pare che quello che ha scritto scritto i testi di più canzoni mogol non so se lui sa cosa vuol dire mogol è una cosa musulmana mogul mogol si dice che voleva diventare ricco perché gli hanno detto che quelli erano ricchi lui era figlio del direttore di una casa escografica quindi aveva del talento ha scritto canzoni soprattutto con lucio battisti va bene ma sono professionisti della parola altri lavorano nella pubblicità quindi attenzione cosa succede le canzoni servono per attrarre le emozioni quindi non sono buone notizie sono vendita e le aziende facendo pubblicità durante il festival fanno un'altra tecnica fanno un'altra tecnica quindi laureati in sociologia della comunicazione psicologia psicologia subliminale lettere filosofia lavorano nella pubblicità in pochi secondi devi vendere il prodotto però non puoi fare il festival della pubblicità allora prendi le canzoni che fanno di felicità di amore felicità amore insieme sono una ventina di parole tu per me sei io e te ma com'è possibile è possibile perché sono professionisti quindi non sono buone notizie quali sono le buone notizie che molta gente è onesta è leale è corretta fa volontariato raramente parlo di volontariato no? parlo di volontariato solo se c'è un incendio un terremoto un alluvione allora fa vedere quelli che aiutano ma ci sono persone che volontariamente aiutano tutto l'anno già la parola volontario è dura no? ho visto che ci sono delle ambulanze della misericordia che è una parola che è rimasta in qualche ambulanza ma perché oggi è volontariato non c'è più persone benefattori dell'umanità perché uno che fa il volontario è benefattore uno che fa il volontario è uno che ama la vita è uno che produce buone notizie queste persone non sono personaggi qual'è la differenza tra persona e personaggio? che la persona è umana, spontanea, leale, aperta il personaggio è creato, è artificiale è la persona che fa spettacolo e lo spettacolo può essere politico, può essere spettacolo religioso, spettacolo fino a se stesso, il mondo dello spettacolo quindi quali sono le buone notizie? le buone notizie è che è vero che la bomba atomica ha ammazzato tante persone in Giappone, pare che tra tutte e due le città ha circa 400 mila morti, però nella guerra mondiale senza bomba atomica sono milioni di morti, milioni, più effetti collaterali di quelli che sono nati da persone che erano state irradiate però la bomba atomica ha creato un punto fermo, non ci può essere la terza guerra mondiale quindi ci saranno, perché le fabbriche di armi hanno tante piccole guerre qua e là pare che tra piccole e grandi ce ne sono 49 in corso nel 2023 49 guerre siccome ce n'è una in Europa allora siamo in guerra ma anche in Africa, anche in varie parti del mondo scontri tra... in Africa è quella dove ci sono più scontri chiamati guerre, battaglie, tra gruppi che sono armati ma l'Africa non ha fabbrica di armi quindi da dove vengono le armi? allora la domanda quali sono le buone notizie? è buona notizia se stai bene se frequenti gente che fa bene se tu fai del bene perché il telegiornale, nelle sigle per una cosa fa vedere il mondo quindi la motivazione a livello emozionale vediamo che succede nel mondo nel mondo succede che la maggior parte si comportano bene fanno vedere due che si sposano ad esempio se non sono famosi a meno che non fanno la stranezza due che si sposano buttandosi al parca adute andando sott'acqua facendo cose strane allora fa notizia quindi la stranezza fa notizia il bambino che fa notizia nascendo è quello che nasce per primo il primo dell'anno mezzanotte, 30 secondi ancora quelle cose lì ma le buone notizie sono oggi nel mondo chi si è comportato bene oggi nel mondo quante sono state le persone oneste oggi nel mondo la bontà supera la cattiveria il bene supera il male invece vogliono dire che il mondo va a rotoli che il mondo va a pezzi che è tutto inquinato tutto distrutto appena c'è un incendio te lo fanno vedere da tutte le angolazioni qual è lo scopo? abbassare il livello di coscienza traumatizzare chi guarda sconvolgere la mente di chi vorrebbe vivere in modo sciolto naturale con amore quindi quali sono le buone notizie? la buona notizia è se tu stai bene se tu desidi di star bene e creare intorno a te un campo energetico positivo puoi farlo puoi farlo